Eccoci, all'interno della Beretta Academy c'è una vetrina, una simulazione della presentazione nella grande distribuzione in questo caso, ma anche nelle gastronomie come questi prodotti appesi bellissimi, tutta la produzione Beretta. E ne parliamo con Lorenzo Beretta che è responsabile del commerciale, insomma responsabile vendite worldwide, il che vuol dire che oggi in Giappone, domani negli Stati Uniti e dopo domani magari. La settimana scorsa ero a Tokyo e la settimana successiva a New York. Ecco, partiamo da qua, partiamo da quella espressione che si chiama internazionalizzazione delle imprese, questo è un buon mantra che si sente dire e che poi invece si concretizza come in questo caso per noi. Per noi vuol dire oggi oltre un terzo del fatturato realizzato all'estero, vuol dire oltre 55 paesi serviti dall'Italia con tutti i vari prodotti, parliamo di prodotti italiani, capolavori italiani, grande qualità, dai prosciutti crudi ai prosciutti cotti ai salami, alle mortadelle eccetera. Sono tutti salumi molto richiesti all'estero, diversi da quelli che trovano localmente e che sempre di più vogliono dire qualità e vogliono dire mangiare italiano e tradizioni italiane. Ecco, forse qualche tempo fa c'era un po' la confusione che uno pensasse che non si può, che non può arrivare negli Stati Uniti ad esempio il salame fatto bene eccetera perché ci sono barriere all'ingresso, è ancora così oppure no? Allora, in tanti paesi... Chiariamo questa cosa. No, no, in tanti paesi purtroppo si possono esportare solo alcuni prodotti. In generale il prosciutto crudo tra i quali il primo capolavoro chiamiamolo è il prosciutto di Parma può andare in quasi tutto il mondo. Seguono poi sicuramente i prosciutti cotti e le mortadelle, i salami in alcuni paesi possono andare mentre in altri ancora oggi esistono barriere sanitarie ed oganali che impediscono l'importazione di questi sono. Ecco, questo però non imperisce che il nostro prodotto italiano, in particolare i salumi siano richiesti e famosi nel mondo, no? Che cosa possiamo fare come paese per appunto allargare un po' questo margine? Allora, una richiesta che è sempre fatta alle istituzioni è cercare di trovare accordi con le singole nazioni, quindi sia a livello europeo che a livello di accordi bilaterali per aumentare il numero di prodotti esportabili nelle singole nazioni. Quindi, qualcosa il governo può ancora fare? Qualcosa può ancora fare, negli ultimi anni è stato fatto, il problema non è facile trovare le controparti interessati perché alla fine sono sempre scambi commerciali da una parte all'altra e quindi normalmente il paese bilaterale con cui viene fatto l'accordo chiede in cambio qualcosa anche per sé. Allora, l'ultima domanda gliela faccio qui davanti a quest'altro prodotto e questo è meraviglioso, sono i prosciutto cotto, gran beretta e prosciutto cotto scelto europeo, antica fattoria, cioè prodotto che abbiamo visto oggi produrre davvero eccezionale, ma la mia domanda è chi è che lo gradisce di più? Non dove si vende di più, ma chi è che è più interessato al prodotto? Qual è il paese dove riusciamo ad avere più curiosità? Allora, i paesi più interessati sono sicuramente gli Stati Uniti, sono tra i più interessati, il mondo asiatico apprezza molto per esempio i prodotti italiani, il Giappone ad esempio ha una grande cultura del mondo della carne, nel mondo del suino o nel mondo del bovino e quindi apprezza tantissimo i prodotti italiani. Il suino italiano ha la caratteristica di essere un suino pesante, quindi con buona quantità di grasso e normalmente in tanti paesi europei questo viene visto a volte con un po' di paura, mentre in Giappone ad esempio o in altri paesi come gli Stati Uniti il grasso è indice anche di qualità e quindi questi paesi ad esempio vengono apprezzati particolarmente i salumi italiani. Poi comunque Nord America, Sud America, Europa tutta e Australia stessa. Oggi quanta percentuale esportate voi? Oltre il 35%. E in quanti paesi? Oltre il 55%. Oltre il 55%. Bene, allora auguriamoci che diventino ovviamente 60% presto e speriamo che insomma noi italiani riusciamo a riempire il Giappone di prosciutto quanto loro ci hanno riempito di sushi, facciamo così. Speriamo. Grazie. Grazie per quello, grazie a lei.